Gentili telespettatori, buona giornata. È bravo il nostro Enrico Letta, è bravo il nostro Enrico Letta. La Meloni, nel confronto di ieri sul Corriere della Sera, diceva a Enrico Enrico, stai creando il mostro? Io parlo di programmi, tu invece parli male solo di me. Questo non è bello eticamente, non è bello professionalmente, soprattutto è pericoloso per due cose. Soprattutto mette a rischio l'incolumità di Giorgia Meloni creando il mostro. Il finto mostro perché, ricordatevi con Berlusconi, dopo che la sinistra aveva fatto anni a dipingerlo come un mostro, poi ci sono stati casi di persone non molto intelligenti, persone magari con degli scompensi che hanno creduto veramente che era il caso di fermare Berlusconi in qualche modo. Ecco, su milioni di persone sempre ci sono quelli che non riescono a capire che Letta sta creando un mostro elettoralmente. Li prendono sul serio quando lui dice che siamo di fronte al ritorno della dittatura bisogna fermare in tutti i modi la Meloni. Ieri Letta dice la stessa cosa, bisogna fermare in tutti i modi la Meloni, poi ci pensa e dice politicamente parlando. Eh Letta, politicamente parlando, ma non tutti sono in grado di capire il politicamente parlando. C'è gente che invece va oltre. Quindi, caro Letta, il creare il mostro potrebbe portare a delle conseguenze, poi dovrai assumerti la responsabilità di quello che stai dicendo oggi. Attenzione, perché è pesante poi una responsabilità di quel tipo morale, magari non penale, ma morale. Pertanto Letta crea il mostro in Italia. Ma il fatto è che Letta ha fatto pure un video in tre lingue dove andava a spiegare agli stranieri, soprattutto agli altri paesi europei, attenzione perché abbiamo un pericolo in Italia che potrebbe diventare anche un pericolo europeo per la democrazia. Cioè, ha voluto far capire, attenzione, potrebbe tornare in Italia una dittatura e se torna in Italia una dittatura potrebbe essere un pericolo anche per l'intera Europa perché avendo un dittatore e visti i passati dal balcone di Palazzo Venezia, qui potrebbe esserci un dittatore che poi dichiara guerra a tutta l'Europa, tipo risico, no? Ecco, a noi sembra ridicolo questo comportamento sciocco, ma all'estero non sanno come funziona in Italia, prendono sul serio queste cose, quindi in Europa cominciano a pensare veramente che ci sia un pericolo dittatura e questo grazie a Letta che discredita il paese, scredita il paese e fa poi portare a pensare gli altri che noi siamo veramente diventati un popolo e uno stato pericoloso e questo poi provocherà o potrebbe provocare dei danni economici ingenti perché la speculazione, le banche d'affari, la finanza potrebbero rivoltarsi contro l'Italia diventata improvvisamente un covo di insurrezionalisti. Ecco, pertanto in Europa cominciano come i socialisti e Renew a preoccupati per la tenuta democratica italiana ed europea e questo grazie a quel chiacchierone, chiacchierone, dico solo chiacchierone, a quel chiacchierone di Letta che è andato a sparlare dell'Italia, cosa che non gli porta neanche mezzo voto, ma andare a screditare l'Italia è uno degli sport preferiti della nostra sinistra, no? Noi non siamo e gli altri sono, noi non saremo mai come gli altri. Una parola positiva arriva dalla premier Sanna Marin che rompe il fronte europeo degli spaventati. A Letta cosa combini, mi hai creato il fronte europeo degli spaventati. Noi in Italia avevamo i politici scappati di casa mentre in Europa abbiamo gli spaventati, vabbè, è un nuovo partito, il partito degli spaventati, dovremmo farlo anche in Italia, no? Il partito degli spaventati è arrivato all'8%, va bene. Sanna Marin dice penso che gli italiani abbiano il diritto di votare, che è la premier finlandese, abbiano il diritto di votare chiunque vogliano. Preferisce commentare, non preferisce, diciamo che preferisce non commentare il possibile esito delle elezioni in Italia e a domanda diretta su Giorgia Meloni evita di entrare in campo, dice che gli italiani hanno il diritto di votare chi ritengono opportuno e da leader di un altro paese non commento le elezioni in Italia. Penso che sia molto importante in questi momenti, molto difficili in Europa, essere uniti contro le minacce della Russia nei confronti di tutti noi, non solo di altri paesi. Credo che ogni paese, ogni politico in Europa veda quanto sia grave la situazione, ma non voglio commentare la politica italiana o le elezioni che verranno. Brava Sanna Marin, brava Sanna Marin. Così la premier social democratica, io quando sento quelle parole democratici non vedo democrazia, non vedo. Sto facendo poi un libro dove parlo proprio di questa famosa democrazia e di questi partiti che si freggiano di questi termini dem democratici. Così la premier social democratica rompe il fronte degli spaventati, gli spaventati nell'Unione, per l'affermarsi di una formazione di destra, anche estrema come in Svezia. Proprio mentre dai socialisti e democratici a Bruxelles arriva un messaggio di segno completamente opposto. Certo che ci preoccupa in Europa in cui esistono governi guidati da populisti dell'estrema destra, dichiara il capogruppo S&D al Parlamento europeo, Itratxé García Pérez. Dice ovviamente vedremo cosa succederà in Italia. Le elezioni non si sono ancora tenute. Certo che ci preoccupa perché l'Italia è un paese fondamentale in Europa, ma ci preoccupa per l'Europa nel suo complesso. Ma va la Pérez, Pérez di qui e Pérez di là, ma vai a preoccuparti a casa tua, va preoccupati. Gente che magari non è mai venuta neanche in Italia per turismo ed è preoccupata, preoccupata per l'Europa addirittura, no? Va bene, insomma. La Meloni che il 26 di settembre dichiara guerra a tutta l'Europa, no? Insomma, vedo che anche in Europa sono un po' sciocchini, un po' tanto. Anche i liberali dell'Unione Europea sono usciti allo scoperto confermando che l'autoritarismo di Giorgia Meloni fa paura agli europei. Giorgia Meloni è autoritaria? Non mi sembra che sia autoritaria, ma fa paura agli europei, dicono i liberali. È una preoccupazione che tutti hanno qui. Qui dove? Qui. Confessa Stephen Sejourné, esponente a Strasburgo di Raineuve, non so se è tipo Raineuse o qualcosa del genere. La formazione a cui fanno riferimento anche Macron e Renzi e Calenda. Arrivederci a tutti.